Sono 42 libri disponibili donati dalla Biblioteca Italiana per ipovedenti. I volumi, come ha stabilito la delibera di giunta dello scorso luglio, che ha dato l'ok all'adesione al progetto Leggere Facile, Leggere Tutti, sono consultabili presso la Biblioteca Comunale di Battipaglia. Nelle prossime settimane il catalogo sarà arricchito da nuove donazioni.